Quando eravamo piccoli, eravamo più belli. Quando eravamo piccoli, eravamo più buoni. Quando eravamo piccoli, eravamo più amici. Quando eravamo piccoli, eravamo più sinceri. Quando eravamo piccoli, eravamo più semplici. Insomma, quando eravamo piccoli, eravamo più piccoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma se la chiamavi così, non la conosceva nessuno. A via Repisciaiola, ecco, questo era il nome con cui veniva chiamata, per il semplice fatto che in poco più di 40 metri ci stavano due pescherie e due baccalerie, e in più tante altre attività artigiane. Ora invece, tristemente, negozi di finto lusso adeguato ai tempi, dove tutto o quasi è abbastanza finto. La mia famiglia era composta da mio padre, mia madre, mio fratello Valentino, di due anni più grande, e da me. Mio padre aveva una sartoria in via Pollio, dove in poco più di 14 metri quadrati, lui e mia madre hanno trascorso oltre 40 anni. Tutti i giorni, spesso anche la domenica, e dalle 7 del mattino fino alle 9 di sera, con un piccolo stacco per il pranzo. Io e mio fratello abbiamo passato gran parte della nostra infanzia da soli. Valentino ed io, infatti, abbiamo condiviso tutto nella nostra vita, almeno fino a 14-15 anni. A ripensarci ora, credo che siano stati gli anni più belli della nostra vita. Il calcio, la chiesa, l'oratorio, le prime uscite con gli amici. Ma allora la vita era molto più semplice e più bella, almeno per noi. Comunque, come vi dicevo, passavamo molto tempo da soli in casa, e lì si creavano tante occasioni per fare un po' di guai. Piccoli, ma sempre guai erano. Non so quante bomboniere abbiamo rotto a mia madre con le partite di pallone in casa. Mi ricordo che nel periodo di Natale eravamo appassionati fruitori di fughi d'artificio. Le botte, come le chiamavamo noi. Compravamo miccette cinesi, qualche raudo e raramente le stelline. Niente di esagerata tipo trick-truck. Ma erano comunque fughi d'artificio. In genere le sparavamo per strada. Una sera decidemmo invece che il nostro campo di bombardamento dovesse essere casa nostra, e precisamente il nostro balcone, esattamente il balcone dell'ingresso, dove mia mamma stendeva i panni ad asciugare che aveva lavato. Quel giorno, lo ricordo bene, tra le altre cose era stessa ad asciugare anche il pigiama nuovo di mio padre, che dopo tanti anni aveva comprato e di cui era molto orgoglioso. Un pigiama celeste, molto caldo, ottimo, perché la nostra casa era abbastanza fredda. Nella nostra disponibilità di fochisti ci stavano quel giorno le miccette cinesi. Io accendevo la micce e Valentino lanciava. I primi lanci andarono bene, nel senso che l'esplosione avveniva senza creare danni a mezza altezza. Poi rientravamo dentro per non farci vedere dai passanti attirati dal piccolo sparo. Ad un certo punto, però, Valentino sbagliò un lancio, colpendo in pieno il pantalone di pigiama di papà, che cominciò a prendere fuoco, esattamente la gamba sinistra. E qui cominciò il panico e la ricerca confusa di soluzioni. Che fare? Valentino ed io pensavamo di buttare dei bicchieri di acqua per spegnere l'incendio. Intanto giù in strada si era radunata una piccola folla di curiosi che incitava al salvataggio della coscia. Per la verità ci stavano anche quelli che ridevano sulla nostra disgrazia. Che ci vuoi fare? E sempre così si ride delle disavventure degli altri. Ad un certo punto, nel pieno del caos, sentimmo di bussare la porta di casa. Era Mimil Tabaccaio, il nostro fornitore ufficiale di fuochi d'artificio. Forse per lo scrupolo di essere stato il nostro ispiratore, negli acquisti si era sentito in dovere di venirci in aiuto. La vata va a nanz. Questa frase perentoria bastò affinché ci facessimo da parte e lasciare a lui il campo d'azione. Mimì, con un calcio perentorio, stradicò il pantalone del pigiama dal filo e una volta a terra, con il piede riuscì a spegnere l'incendio. Intanto la piccola folla di curiosi, radunatesi sotto casa, fece partire un sonoro applauso e Mimì, come una vera star, ringraziò con piaciuto. Il pantalone del pigiama, intanto, aveva una coscia lunga e una corta dimezzata dalle fiamme. Rientrati a casa, Valentino e Dio affranti, cominciammo a ragionare sulle conseguenze. Chi l'avrebbe detto ai nostri genitori? Verso le nove, papà e mamma rientrarono a casa. Noi eravamo nella nostra cameretta facendo finta di studiare. Qualche minuto dopo entrò con il corpo del reato nella nostra stanza mia madre dicendo «Why you? Ma che è successo?». Spiegammo tutto, rammaricate. Voi insieme, tutti e tre, andammo in cucina dove mio padre chiese del suo pigiama nuovo se si fosse asciugato dicendo «Stasera fa freddo e così col pigiama nuovo starò molto più caldo». Mamma glielo mostrò nella sua nuova versione spiegando il tutto. Povero papà, restò molto male, ma l'ha prese con filosofia dicendoci «Vol dire che io metterò la giacca nuova e il pantalone vecchio, ma voi due non accenderete più nemmeno una candela, pure se non ci sta la luce dobbiamo restare all'oscuro». Valentino e Dio abbiamo frequentato le scuole elementari all'Edmondo di Amicis, la scuola elementare più antica della città, quella dove ti senti proprio nel libro cuore. Una mattina di un giorno di mezza settimana ci comunicarono che la scuola sarebbe rimasta chiusa il giorno dopo. Felici di questa libertà, io e Valentino pensammo di andare a chiamare Diego Martino, un suo compagno di classe, per poter passare con lui quella bella libera mattinata. Diego era in ufficio con suo padre in attesa di incontrarci e farci una bella passeggiata. Quando arrivammo, il signor Martino, papà di Diego, con un vero colpo di teatro, ci disse, «Ragazzi, voi non avete niente da fare, giusto? E allora verrete con me, in federazione al PC, dove ci sarà un incontro con un compagno del Partito Comunista Cinese. Non preoccupatevi, poco tempo. E dopo ci sarà un bel rinfresco. Tante cose buone che vi piaceranno». Allettati dal rinfresco, anche se frastornati dalla proposta quasi imposta del programma che cambiava la nostra libera mattinata, ci recammo insieme al padre di Diego alla sede del PC. All'entrata tutti ci salutarono, indicandoci come giovani compagni. Quando la sala fu piena, un compagno annunciò l'arrivo del dirigente del Partito Comunista Cinese. Nome naturalmente impronunciabile. Lui entrò e tutti si alzarono in piedi, con il pugno alzato all'assordante grido di «Ho, ci, min! Ho, ci, min!». Noi restammo frastornati e ci accodammo al coro, tanto pensavamo al rinfresco. Poi il dirigente parlò. Credo che nessuno capiva una parola, compreso il padre di Diego che di tanto in tanto ci guardava annuendo il discorso. Poi i grandi applausi e ancora il grido di «Ho, ci, min! Ho, ci, min!» tremava tutto. Il padre di Diego ci guardò compiaciuti e ci disse «Bravi, bravi i miei giovani compagni! E ora andiamo al rinfresco!». Un panino un po' secco con una fetta di salame e un'aranciata. Ecco, questo fu il rinfresco. Che delusione! Eppure avevamo pure gridato «Ho, ci, min!». Tornando a casa pensammo alla nostra libera mattinata sprecata così alla sede del PC. Di ritorno dal nostro stadio Maracanà, cioè Piazza Vambitelli, ci fermavamo quasi sempre tutti sudati alla bottega da papà e mamma per poi aspettare la chiusura e tornare insieme allora a casa. La bottega, che oltre che il luogo di lavoro era posto di ritrovo dove fare quattro chiacchiere, condividere un pensiero, o bere un caffè fatto a casa, corretto all'anice. La bottega dove in tanti anni sono passati clienti e persone di tutti i tipi, spesso strani, particolari. In uno di questi casi, tra i protagonisti della storia, ci stavamo a pieno titolo anche Valentino ed io. Don Mario, un commerciante della nostra stessa strada, un giorno aveva annunciato a mio padre che di lì a qualche giorno gli avrebbe portato un nuovo cliente. Un certo Don Matteo, avvisandolo però, che il personaggio era un poco particolare. Insomma, si lasciò scappare Don Renà. Sapetelo trattare, perché un guappo. Dopo qualche giorno, Don Mario e questo tale Don Matteo vennero in bottega e lui ordinò un vestito gessato doppio bet. Sì, ma, mamma lì ti fa veramente a mestiere, eh? Ma raccomando. Lasciò un anticipo per l'acquisto della stoffa, dando lui l'appuntamento a mio padre per la settimana seguente per la prima prova. La stoffa fu presa e mio padre mise il vestito in prova per il giorno stabilito che si viveva con una certa tensione. Mia madre, intanto, aveva predisposto che fossimo presenti anche noi come sentinelle alla prova. Speriamo che non dè una pistola. Don Matteo venne a misurare e restò molto contento. Ci salutò dicendoci che sarebbe venuto la settimana dopo per la seconda prova. Papà, contento che tutto fosse andato bene per la settimana successiva, mise il vestito a seconda prova. Don Matteo però non venne. E non venne nemmeno la settimana seguente. Così papà chiese a Don Mario se sapesse qualcosa, come mai non fosse più venuto. E lui molto francamente gli disse «Dorenà, voi se volete consegnare i vestiti a Don Matteo dovete andare a portargli la casa sua. Lui qua non verrà più. Altro non vi posso dire». Si presentava un bivio davanti agli occhi di mio padre. Finire il vestito e portarglielo o lasciare stare? Perdere il lavoro e il guadagno vista la pericolosità della situazione? Lui decise per la prima soluzione. E in una piovosissima domenica, scortato da mio fratello e da me, si partì per la consegna verso il paese di Don Matteo. Ma senza sapere assolutamente un indirizzo. Quando arrivammo pioveva a dirotto e per strada non si vedeva nessuno per poter domandare. Girammo a vuoto per una buona mezz'ora. Finalmente ci apparve una signora che camminava sotto un ombrello, massacrato dalla pioggia e ci avvicinammo. E papà disse a Valentino che sedeva avanti di abbassare il finestrino e chiedere. Lui così fece e riuscì a dire «Signora, scusi! Signora, scusi!» Poi gli prese un groppo alla gola facendolo diventare rosso peperone in viso. La poverina che gentilmente si era fermata dopo un po' che esclamò «Guaglio, ma va a fa' un culo!» e si allontanò. Io ridevo e papà si arrabbiò ma Valentino ammise candidamente «C'ha già fatto? E non mi esceva la luce!» Comunque dopo un po' papà si fermò davanti a una casa scese e chissà per quale miracolo era proprio la casa di Don Matteo rientrò in macchina prese il vestito ed andò. Dopo cinque minuti uscì Valentino ed io non avemmo il coraggio di chiedergli niente se lo avesse visto se lo avesse pagato niente. Un mese dopo alla bottega una mattina si fermò Don Mario e rivolgendosi a papà gli disse «Don Renà, va ricordata Don Matteo l'ha naciso il nostro dirimpettaio era il mitico Vincenzo Gesù Maria un uomo buono e simpaticissimo che aveva un bar all'angolo tra via San Carlo e via San Giovanni ripeto un simpaticone ma lui aveva il vizio di bere beveva principalmente anici e vino eravamo nel 1978 e per il mondiale di calcio giocato in Argentina l'unico nel vicinato ad avere un tv color era solo Don Vincenzo il quale con molta generosità ci invitava a vedere le partite da lui la nazionale era quella di Enzo Berzot Paolo Rossi Marco Tardelli Antonio Cabrini e tanti altri veri uomini e calciatori che giocava bene veramente bene ricordo che per Argentina-Italia giocata in piena notte per via del fuso orario a casa di Don Vincenzo eravamo un bel numero di persone Mimil Tabaccaio Pietro Il Falegname papà Valentino ed io tutti molto accaniti e svegli l'unico sopito dai fumi dell'alcol era proprio Don Vincenzo che di tanto in tanto alle nostre selvaggia grida si svegliava dicendo ma come stanno e noi lo rassicuravamo dicendo non vi preoccupate sa mio canna buona ma voi l'urmita la partita finì e Don Vincenzo non riuscì a svegliarsi così che il risultato gli fu detto il giorno dopo a lui lo ricorderò sempre sempre con affetto perché era davvero una brava persona casa nostra era fatta di cinque stanze una nell'altra e il palazzo abbastanza rovinato con un portone sempre aperto e la possibilità di entrata per tutti persone e animali no dico così perché più di una volta provenienti dalla strada si erano introdotti i topi sì proprio loro che i sornioni salivano le scale qualche volta riuscivano anche ad entrare in casa mi ricordo che una sera mentre eravamo a cena tutti presenti mio padre sentì un rumore nella cucina e subito esclamò ciastana zoccolo da noi i topi vengono così detti naturalmente si creò panico imbarazzo e lui stesso andò a verificare tornando dall'altra stanza poco dopo ci rassicurò niente niente ma sono sbagliato intanto e noi salivano pensieri del tipo e se stanotte sale sul letto la notte passò tranquilla nel senso che dormimmo abbastanza e seppure il topo avesse scorazzato in casa nessuno lo aveva visto la mattina invece a colazione nei pressi del frigorifero il rumore si fece sentire inequivocabilmente era lui non c'era più nessun dubbio quindi si passò all'azione di attacco per la cattura del ratto mio padre distribui compiti e le armi allora dobbiamo catturarlo mia madre Valentino più nelle retrovie avrebbero dovuto segnalare una volta identificati il percorso del topo mio padre con la scopa avrebbe dovuto colpire il poverino e io con la mazza per lavare per terra mi sarei dovuto lanciare da una sedia e colpirlo papà dette qualche piccolo colpettino di scopa al frigorifero e un topo veramente piccolo sbucò fuori veloce io mi lanciai dalla sedia ma niente papà gli sferrò un inutile colpo di scopa che nemmeno lo sfiorò e intanto Valentino e mamma è fuuta là è fuuta là il topo correva veloce inseguito per tutta la casa da mio padre che come un vecchio samurai sferrava colpi senza mai centrarlo e soprattutto al grido di mannaggia chi te è morta mannaggia chi te è morta era il suo inno di battaglia fino a che il topo trovando il balcone aperto si lanciò dal secondo piano mentre in un ultimo disperato tentativo papà sferrò il colpo finale scivolando clamorosamente con il culo a terra silenzio e poi una nostra grande risata lui mezzo incazzato e mezzo fiero è inutile che rita io penso che a morire non è morta però si sarà messa paura è assai e cangop non c'è saglia più la sera del 23 novembre del 1980 Valentino ed io eravamo all'oratorio mi ricordo che ero appoggiato al canestro mentre gli altri giocavano e senza che nessuno avesse tirato il pallone il canestro cominciò a vibrare tutto poi andò via la luce e tante sirene di allarmi qualcuno disse il terremoto e così via tutti e noi torniamo a casa per strada scappavano tutti impauriti e disorientati quando arrivamo papà e mamma erano giù al portone claudicanti perché la scossa le aveva colti mentre salivano le scale e andando via la luce erano caduti l'uno sull'altro cercando di scappare per fortuna non si erano fatti male seriamente non sapevamo che fare le voci che circolavano era che la situazione fosse molto grave e l'idea migliore era quella di non salire a casa quella notte perché sarebbe stato molto pericoloso bisognava passare la notte fuori papà però ad un certo punto decise di salire ufficialmente per controllare che fosse tutto a posto in realtà quella sera in televisione ci stava l'ultima puntata di uno sceneggiato che lui aveva seguito e che per nessuna ragione avrebbe potuto perdere casa di bambola così dopo molti tentennamenti salimmo a casa anche Valentino io e mia madre la scena che ci apparve davanti ai nostri occhi fu apocalittica papà aveva davanti una fumante bracciola di carne del mezzogiorno la bottiglia di vino rosso e le castagne quasi in trance seguiva lo sceneggiato papà vogliamo scendere giù è pericoloso restare a casa non rispose forse non senti nemmeno talmente preso dalla storia più tardi intorno alla mezzanotte sentimmo suonare il campanello di casa erano i signori colella i nostri coinquilini del negozio bazar che in realtà abitavano a Napoli ma che avendo il negozio avevano preso una casa sotto come appoggio e deposito con loro subito i miei commentarono quanto era successo e Don Raffaele spiegò che a Napoli loro abitavano al secondo piano e per la paura quando avevano sentito la scossa se ne erano saliti sopra i tetti meno male che il loro palazzo non crollò altrimenti quell'idea sarebbe stata fatale per loro e poi Don Raffaele continuò dicendo oh Renà io mi sono cagato sotto e papà pure io Don Raffaele mi sono misa paura ma Don Raffaele specificò Don Renà io mi sono cagato sotto veramente va niente a basso io vado a fare la mutante scennite scennite con me naturalmente si creò un grande imbarazzo ma papà scese con Don Raffaele poco dopo salirono papà e Don Raffaele e quando papà ci vide disse è vero l'ho vista Valentino e Dio scappammo a ridere nella nostra stanza poi i signori Colella se ne scesero e noi restammo con incoscienza a dormire a casa quella notte e poi e poi noi due noi due alla mattinata popolare al cinema Esedra ore 11 di domenica dopo la messa delle 9.30 ufficiata dal mitico Don Toscano che alternava latino casertano e interrogatori nelle sue omelie si proiettavano sempre film di mostri o maciste oppure zorro e il momento più bello era quando il mostro veniva sconfitto oppure quando maciste o zorro baciavano la loro bella lì veniva giù un fragoroso applauso misto a fischi di felicità il momento invece più complicato era l'inizio quando si spegnevano le luci e dalla galleria pioveva di tutto in platea dalle sputazze alle patatine e altro e poi un giorno ci andammo a vedere il nostro primo film di Kung Fu con una mano ti rompo e con due piedi ti spezzo e all'uscita dei novelli Bruce Lee ci tesero un agguato così che Valentino e Dio fummo costretti alla ritirata non prima di avergli detto ma questo racconto di quando eravamo piccoli o più o meno piccoli finisce una sera del 1977 la signorina Ricciardi un'anziana nostra vicina di casa si aiutava fittando una camera della sua casa quell'anno il suo inquilino fu il signor Gian Grande il suocero di Pino Daniele persona gentile con cui facemmo amicizia lui ci disse che avrebbe voluto farci vedere la chitarra di Pino ma che non era bravissimo a suonarla papà si ricordò di un suo amico grande chitarrista il maestro Mario Quattrocchi il quale da bambino era andato a bottega di Sartoria dopo la scuola in estate per volontà della sua mamma il maestro Felice accettò l'invito di papà per venire una sera a casa e suonare la chitarra così ricordo che il maestro venne e presenti anche Valentina e Dio il signor Gian Grande e papà eseguì due brani bellissimi in maniera egregia mentre noi Felice ascoltavamo dopo lui chiese al signor Gian Grande di farci sentire qualcosa anche lui e qui successe una delle cose più comicamente imbarazzanti vissute nella mia vita Gian Grande si lanciò nell'interpretazione di Napolé di Pino Daniele purtroppo non riuscì sia la melodia che la voce gli diedero buca Valentina e Dio fingendo un attacco di tosse scappammo in camera nostra dove le risate continuarono per tutta la notte ecco questo è il racconto di quando eravamo piccoli di un'epoca bella vissuta in piena semplicità con poche cose ma con tanto affetto quello che Valentina e Dio abbiamo vissuto per tanti anni e ora che sei più suo magari sei una stella come quella che portavamo sul petto della nostra prima maglia la nostra prima squadra la stella rossa beh io ti voglio ricordare così già il calcio la tua grande passione che hai sempre coltivato da giocatore da spettatore l'ultimo l'ultima da rendersi quando la domenica alla reggia convocavi una serie di ex calciatori amici per la tua irrinunciabile partita la tua gioia fanciullesca è bellissima dove mettevi cuore e anima e comunque io ti voglio ricordare così come quella notte tutta passata a ridere noi due ti voglio bene la tua gioia è bellissima Grazie a tutti